Sì, una bellissima prova, una bellissima prima partita, diciamo che abbiamo giocato molto molto bene, credo che in confronto a loro abbiamo dimostrato un po' più di gioco, che un po' ce lo siamo guadagnati sicuramente con la quantità di amichevoli che abbiamo fatto, che magari loro hanno riuscito a giocare tanti in preparazione, quindi è una prima partita che da cui avevamo bisogno, molto importante partire così per la fiducia, però sono contento che abbiamo dimostrato dall'inizio della partita tanta voglia, tanto carattere e poi i risultati sono visti in campo. Sì, adesso dopo andremo a Verona e Milano, saranno sicuramente partite molto impegnative come questa, cerchiamo di affrontarla nel migliore dei modi, con delle settimane di allenamento che stiamo facendo, cercando di migliorare ancora delle cose, è chiaro che è la prima partita, la cosa molto positiva è che possiamo ancora migliorare.